Dobbiamo portarlo lassù! Buongiorno, che gli è successo? In questo ospedale ci sono delle donne medico, ti avevo chiesto di non portarmi, ci non l'ho volto! Ma insomma, che succede? Dottore, lo sto visitando, è il mio lavoro. Chi è il suo tutore? Vado a Dubai per una conferenza. La capisco, signora Annie, creda, la lascerei passare se potessi, ma il suo permesso di viaggio è scaduto. Ti prego, calmati ora e dimmi che cosa possiamo fare. Ti ricordi di la Shed? So che ricopre una carica importante, quindi forse può aiutarmi. Oggi è l'ultimo giorno per presentare i candidati al Consiglio Comunale. Se vorrà candidarsi, lui la riceverà senz'altro. Benissimo, mi candido allora. Mi sono candidata per il Consiglio Comunale. Ha a che fare con i diritti delle donne? Sì, certo, è tra le mie priorità. Dal momento che sei un medico, non sai niente di campagne elettorali. Ora lo sapranno tutti. È la mia campagna elettorale, non il mio fidanzamento. E le elezioni sono l'unico modo per far sentire la nostra voce nel Consiglio Comunale. Maria, non pensi che una sala per 200 persone sia troppo grande? La riempirò. Sono felice di vedervi qui. Molte cose miglioreranno se mi voterete. Ci sono molte questioni alle quali lei, come donna, sarà particolarmente interessata. Per esempio i giardini. Sono sicuro che vorrebbe vedere più giardini e parchi gioco. La questione è vitale, direi. A dire il vero, altre priorità. Noi non le vogliamo le donne e non vogliamo votarle. Qualcuno vuole dire alla donna con il velo nero che noi non abbiamo tempo da perdere? Basta, sono stufa. Signori, per favore, smettetela. Un po' di silenzio, per favore. Qualche problema a casa? Uno bello grosso. Ma stavolta è di difficile soluzione. Ciao da Valeria. Sapevate che i diritti di arancia meccanica furono comprati da Mick Jagger per 500 dollari? Il cantante voleva interpretare Alex con gli altri Stones come drughi. Poi ci ha ripensato e ha venduto i diritti alla Warner che pensò di coinvolgere Ken Russell come regista e Oliver Reed nei panni di Alex. Ragazzi, se vi piace la maglietta da vericinefili che indosso, in info box il link per comprarla. Ciao da Valeria.